siamo con angela mastalli del centro vela dervio allora da tanti anni nel mondo della vela come cominciato come sei diventata anche allenatrice allora ciao ho incominciato a otto anni in optimist e sono andata ho fatto il mio percorso in optimist fino alla prima superiore poi sono passata in 4 20 poi in 4 70 ho fatto anche la campagna olimpica ma mai andata le olimpiadi eterna seconda però un po di esperienza diciamo che l'ho fatta ho avuto modo di conoscere quelli che adesso sono i migliori velisti regatavo con checco bruni mario noto beppa lagna rufo rufo mi conosce benissimo abbiamo incominciato in optimist insieme marcello meringolo veniva in optimist con me sabrina landi insomma sono fra i più vecchietti fra gli allenatori qua forse vabbè erio di bellano mi batte però diciamo che un po di di esperienza l'ho fatta allenatrice poca ho incominciato nel 2017 a dervio fare tenere i corsi da da istruttrice vela ad estivi perché avevo i bimbi piccoli poi ormai bimbi adesso sono diventati il gre più grande maggiorenne allora diciamo che mi sono un po più dedicata a fare l'allenatrice ho i ragazzi del mio centro vela dervio che non fanno solo vela ma fanno anche altri sport quindi non non ci alleniamo tantissimo e però almeno un'uscita al fine settimana la facciamo e nell'ultimo periodo sto sto accompagnando sto seguendo un bimbo molto promettente del ravennate che andrea bonvicini e l'ho accompagnato alle kinder in veste diciamo di allenatrice personale quando logicamente il circolo vela ravennate non non portava la squadra alle regate allora hanno chiesto a me i genitori di seguirlo e ho avuto modo di seguirlo mi sono molto divertita perché lo vedo che è promettente quindi cerco di fare il possibile ma allora lunga carriera nell'optimis comunque nella vela mamma come si gestisce il rapporto nello sport e nello sport della vela il rapporto con i più piccoli sia tecnico sia da un punto di vista tecnico che umano allora sono un po mi reputo un po diversa dagli altri allenatori è perché sono una una di vecchia generazione quindi non mi interessa se i genitori si uniscono al nostro gruppo se possono aiutare nel caricare armare le barche dove possono aiutare lo fanno quando metto dei paletti quando logicamente deve esserci solo il bambino ed esserci solo bambino perché comunque anche i piccolini devono imparare ci mancherebbe lo faccio fare faccio un po fatica a dividermi nel ruolo da mamma ad allenatrice però dico anche che con i ragazzi in crescita e già più grandi celli faccio fare a loro perché è giusto che siano ma quando ci sono i piccolini che magari nove dieci anni hanno bisogno anche di un po più di affetto rispetto agli altri o di essere anche più seguiti a terra rispetto agli altri perché no perché negagli un abbraccio perché negagli una carezza poi in acqua mi trasformo in allenatrice e così quant'altro però sono una di una vecchia generazione che non dicono ai genitori basta saperli gestire ci mancherebbe ma nei bambini come un altro aspetto importante è diciamo un atteggiamento fortemente agonistico è un aspettamento più giocoso come come poter mediare queste due anime sia all'interno di una squadra sia alle volte all'interno anche di uno stesso atleta perché magari o l'uno o l'altra possono prevalere in modo positivo più o meno positivo infatti il nostro ruolo è difficilissimo e gestire la cosa differenziando un atleta dell'altro perché un atleta più piccolo ha bisogno di particolare affetto e seguito in un certo modo rispetto all'altro di conseguenza anche in acqua la cosa logico deve sempre prevalere secondo me in questa fase d'età soprattutto nell'optimist il lato del gioco del divertimento quello è la base e poi ho notato questa cosa che rispetto ai nostri tempi e lo posso dire adesso sono più cattiviti ragazzi ai nostri tempi eravamo molto più ingenui e adesso invece partono già con una cattiveria nata diciamo che loro prevale il lato agonistico la grinta l'ho sempre avuta anch'io ci mancherebbe però io vedo che tante volte sento degli allenatori imporsi in acqua e urlare in certi modi che io dico o sono antica io e questa nuova generazione così ma secondo me quello l'optimist è il punto di partenza ho visto tanta gente essere brava in optimist e poi mollare e ho visto anche tanta checco bruni bravissimo adesso era decente nell'optimist e poi uscito non si è fermato lì cioè l'optimist deve serve come barca di passaggio per appassionare a questi bimbi ma da lì è il percorso farli mettere agguerriti sul piano della guerra già da questa età per me è molto sbagliato quindi secondo me è un approccio che va fatto pian pianino e poi il nostro ruolo è come secondo me quello che deve essere del maestro dell'insegnante a scuola non comportarsi in nello stesso modo con tutti ma calibrare il rapporto in cioè deve essere individuale da persona a persona secondo me cosa ne pensi di questo di questo trofeo kinder no è una regata che si svolge in più in più tappe è un banco di prova è un test è un momento di passaggio a delle regate più impegnative come una selezione a me è piaciuto tanto l'ho seguito particolar modo andrea mi ha dato modo di seguirlo perché accompagnando la regata e le abbiamo fatte tutte quest'anno da agropoli a villasimis io ho mancato rimini ma perché rimini andava la sua squadra quindi aveva la sua allenatrice lì e devo dire che è un banco di prova bellissimo perché ci sono non è tanto d'agitazione come può essere secondo me una selezione per i mondiali europei ma da modo anche il bimbo che si approccia per la prima volta regatare con le persone forti a guardare loro a prendere tanto da questi perché veramente un un'esperienza fondamentale e più hanno modo di girare hanno modo di imparare conoscere altri luoghi altri venti altre situazioni altre onde e i bambini crescono un sacco quindi ben venga grazie a questa cosa grazie Angela niente grazie a voi